Lo sport salva la Pasquetta. Durante questi giorni festivi in zona rossa, tanti piacentini hanno preso una boccata d'aria, rigorosamente in tuta e scarpe da ginnastica. Le regole in vigore consentono infatti la pratica sportiva nel proprio comune dalle 5 alle 22, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri. Chi fa jogging o va in bici può uscire dal proprio comune, purché vi faccia poi ritorno al termine dell'allenamento. Ed ecco il popolo degli sportivi sull'argine di Borgotrebbia. Tranquilli, cioè rassegnati a questa zona rossa che dobbiamo rispettare. Ci salva un po' l'argine e poi, non so, qualche campo per camminare. Sì, le passaggiatine sì, senz'altro. Quanti chilometri? Ma sei, sei chilometri. Siamo rimasti a casa, ci siamo mossi, almeno si esce per un giro in bicicletta o a piedi. Ci dobbiamo limitare ai giri in bici, c'è mica tanto da fare. Oggi pomeriggio tante persone si sono riversate anche al parco della Galleana per trascorrere qualche ora di relax. Stamattina ho lavorato all'arsenale, sono un operatore sociosanitario, abbiamo fatto un sacco di vaccini e poi ho detto, va, meglio andare a fare qualche camminata al benessere, all'aria aperta e stare un po' in compagnia con gli amici. L'uovo di Pasqua in centro, le fragole, come vedete anche, le fragole e una bella bottiglietta di vino per rigiovanire il sangue. Pasqua e Pasquetta in zona rossa quindi, ma anche in movimento. Pasqua e Pasqua. Grazie a tutti